Sono previste nuove strette riguardo ai femminicidi, nuove norme? C'è un disegno di legge del Ministro Rocella per il quale chiederemo l'urgenza e spero che sotto questo profilo tutte le forze politiche aderiscano. Anche per quanto riguarda l'inaspiramento delle bene per i minori partendo anche dai fatti terribili di Caivano? Questo penso che sia argomento del Consiglio dei Ministri o di giovedì o comunque a breve e quindi vedremo il testo che esce, è in dubbio che ci vuole un inaspiramento delle pene è un problema anche che va affrontato sotto il profilo educativo e scolastico. Allora, nel cerchio pomeriggio c'è la conferenza stampa di Amato Sustica. C'è proprio tutto oggi. Qualcuno dice che l'ha fatto per mettere in difficoltà il governo, che non si capisce perché l'ha fatto proprio adesso. Beh, se fa la conferenza stampa oggi evidentemente chiarirà perché l'ha fatto. Lei crede? Beh, penso di sì, anche perché bisogna vedere poi sempre cosa è stato detto e cosa è stato interpretato. Ma se fa una conferenza stampa penso che chiarirà il punto. Ho pensato che se l'intervista è reale e correttamente riportata vi è una contestazione di una verità giudiziaria in un contesto storico diverso.